Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! La cronaca nazionale è piena di episodi che lasciano senza parole, episodi per i quali intere comunità a volte cadono in lutti molto profondi e assolutamente inaspettati. Purtroppo accade davvero di tutto nel mondo, ma quando succede qualcosa nel nostro paese, o nella città in cui viviamo, la cosa ci colpisce in modo particolare. In Italia sono tantissimi gli episodi sui quali ad esempio ancora a distanza di anni dal loro accadimento si sta indagando, questo per cercare di capire esattamente che cosa sia successo. Ma ci sono anche episodi a noi più vicini nel tempo le cui cause sono già passate al vaglio degli inquirenti. Purtroppo un terribile incidente, perché di questo si è trattato, è avvenuto in questi giorni nel nostro paese. Nessuno si sarebbe aspettato un dramma simile, una intera comunità è sconvolta. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale in queste ore, un 26enne, Alessandro Papi, è stato trovato morto nei boschi del Monte Pelle, vicino l'abitato di Caldes, in Trentino. L'uomo sarebbe deceduto a causa dell'aggressione di un orso. Sul suo corpo sono state trovate evidenti tracce di aggressione da parte del grosso animale. Le cause dell'incidente sono ancora tutta da appurare con precisione, ma si sarebbe trattato di una tragica fatalità. L'uomo stava tornando, correndo, da una escursione nei boschi. Arrivato all'altezza di una curva cieca, il 36enne si sarebbe trovato davanti l'animale. Papi avrebbe anche provato a difendersi con un bastone, secondo le ultime ricostruzioni, ma la forza dell'animale lo ha sovrastato. L'autopsia è stata autorizzata da parte della Procura della Repubblica di Trento, che ha nominato tre periti, un medico legale, un esperto di DNA animale e un veterinario. Tantissima inoltre la rabbia dei familiari della vittima, che adesso chiedono giustizia.